Ingegnere Fabio Panella, per fortuna la piccola Nicola è stata ritrovata, ci può fare un po' il punto della situazione? Sì, fortunatamente è stata ritrovata, siamo entusiasti perché le condizioni meteo erano veramente infelici, la notte è stata fredda, la mattinata è stata ventosa, il territorio è molto impervio, per cui è stato un bellissimo ritrovamento in questo momento. Dove è stata ritrovata la bambina? È stata ritrovata a circa 800-900 metri dall'abitazione, però in una zona molto impervia, attraverso l'ausilio dell'elicottero dei colleghi della Polizia di Stato, a cui chiaramente abbiamo dato le tracce, essendo noi i coordinatori in questo momento della ricerca, sono stati suddivisi in tracce, altri uomini erano a terra a cercare quello che poteva essere ispezionato dal basso, una parte in alto e quindi diciamo che era una manovra che avvolgeva tutta dall'abitazione ad espandersi, quindi è stata diciamo una cosa voluta. Nonostante la notte fredda la bambina sta bene, per fortuna? La bambina stava in discrete condizioni, sì, assolutamente sì. Come ha fatto a superare questa notte fredda che nevicava? La tempra dei bambini. Ecco, quanti chilometri sono stati più o meno da dove si è andata a scomparso? Guardi, no, 800-900 metri dal punto dell'abitazione, però in una zona impervia. Quindi diciamo, poi per arrivare per strada chiaramente erano molti più metri, più chilometri per poterci arrivare, però in linea d'aria diciamo, ricordi andiamoci sotto, 900 metri. Ma la bambina ha detto qualcosa, ha già spiegato perché si è allontanata, come è passata la notte? No, no, questo no. Questo no gliel'abbiamo chiesto. Ma si è capito qualcosa? Però per i motivi la bimba è provare, quindi ha necessità di rimanere nella sua zona di comfort. No, no, pensavo se spontaneamente aveva raccontato qualcosa. Grazie.